Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi ci dedichiamo a un evento avvenuto questa mattina a Monza in Brianza. C'è stata l'inaugurazione di una struttura dell'ospedale San Gerardo di Monza. Si tratta di un intervento molto importante che assume un valore ancora più significativo perché giunge subito dopo l'emergenza Covid. Proprio l'ospedale San Gerardo di Monza è stato protagonista per l'Abrianza ma più in generale per la Lombardia durante la fase più acuta del coronavirus. Oggi a Monza per celebrare questo appuntamento erano presenti in rappresentanza della regione il vicepresidente Fabrizio Sala e l'assessore al welfare Giulio Gallera oltre a numerose altre autorità e rappresentanze del territorio. Ascoltiamo subito il direttore generale dell'ospedale San Gerardo di Monza, il dottor Alparone, per cercare di capire di cosa si tratta. Direttore Mario Alparone, un intervento complesso, quello presentato oggi a San Gerardo, numeri e cifre importanti per una parte importante dell'intera struttura ospedaliera. Velocemente in sintesi cosa possiamo dire di questo intervento? A dire che è stato un intervento che è riguardato un terzo dell'intera struttura. Capite che fare un intervento su una struttura esistente senza diminuire i livelli di servizio per i pazienti è di particolare complessità. Si tratta di 300 posti letto, quindi praticamente in un altro posto si sarebbe trattato di un intero ospedale dotato di le più alte tecnologie e realizzato in un momento che era ancora più complesso perché era quello del picco dell'emergenza Covid, quindi complessità nella complessità. Il tutto è riuscito per un grande lavoro di squadra, un grande lavoro di squadra che ha riguardato soprattutto la mia azienda, ma non solo perché ha riguardato anche l'intera città e l'intera comunità. E dopo aver ascoltato il direttore Mario Alparone che in estrema sintesi ci ha detto quello che è accaduto questa mattina a Monza, ascoltiamo il vicepresidente della regione Lombardia Fabrizio Sala che oltre a illustrare il significato della realtà che è stata inaugurata oggi ci dice anche quanto importante anche in chiave futura sia questa struttura. Vicepresidente Sala, un'inaugurazione importante è quella di oggi, una ristrutturazione di un intero edificio in un momento particolare per la sanità Lombarda e Brianzola in generale. Sì, la memoria torna al passato quando si decise questo tipo di ristrutturazione, una ristrutturazione difficile perché andava a toccare reparti in funzione, resa ancora più difficile, ancora più complicata, ma quindi ancora più orgogliosi di quello che è stato fatto perché è stata completata durante il periodo Covid. Questa è la dimostrazione del mondo sanitario della regione Lombardia che davanti a ogni difficoltà riesce a reagire, a reagire in positivo e portare avanti anche progetti passati che poi dopo migliorano le nostre strutture, ma migliorano anche il luogo di lavoro dei nostri sanitari, di tutta la comunità che ruota intorno ai nostri presidi ospedalieri e che è la vera eccellenza che abbiamo in Lombardia e di cui possiamo rendere conto davanti a tutto il mondo. A Monza, come dicevamo in apertura, era presente anche l'assessore al welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera. La sua analisi ha riguardato, oltre che la struttura inaugurata oggi, anche il ruolo e il significato dell'ospedale San Gerardo durante il Covid e più in generale della sanità lombarda nell'emergenza coronavirus, ma anche il futuro dell'ospedale monzese proiettato verso l'incarico appunto di diventare un IRCS, cioè un istituto di ricerca. Assessore Gallera, un intervento importante di strutturazione è quello che hanno presentato oggi, che si inserisce diciamo in una fase difficile per la sanità lombarda, ma ancora una volta San Gerardo mostra la sua eccellenza. La fase infigile per la Lombardia è stata questo tsunami che ha travolto la regione Lombardia con la prima regione colpita nel mondo occidentale dal coronavirus, senza che nessuno ci sia raccontato che cos'era e come si affrontava. L'abbiamo fatto, abbiamo resistito, questo ospedale ha avuto un ruolo fondamentale. Se è vero che Monzebrianza fortunatamente non è stata una delle province maggiormente colpite, il sistema retto, proprio perché tutti gli ospedali, tanti ospedali, si sono messi a disposizione, hanno accolto pazienti, addirittura si sono saturati da pazienti. Questa ha accolto circa 1700 pazienti, quindi un numero altissimo. L'eccellenza del sistema sanitario, che in questi anni si è caratterizzato anche per tanti interventi infrastrutturali, ci ha consentito di avere un luogo pronto, che doveva essere inaugurato i primi di marcia, che è stato messo a disposizione dei pazienti Covid, aumentando la capacità recettiva. Questo non è l'esempio più ampio, ma ho ricordato l'esempio di Voghera, dove era pronto il nuovo pronto soccorso, che quindi si è trasformato immediatamente in posti letto di terapia intensiva, o l'unità coronarica di Booster Seeds, anche quella pronta, che sono diventati otto posti letto di terapia intensiva, perché dovevano essere inaugurati e li abbiamo utilizzati per quello, pronti, nuovi, immediatamente. Quindi questo è un segno importante. Oggi, fortunatamente, la situazione dal punto di vista clinico, cioè degli accessi in ospedale, si è fortemente ridotta, e quindi questo è tornato a essere un luogo che oggi noi inauguriamo a disposizione del territorio, 300 posti letto, le dimensioni di un intero ospedale, di molti ospedali della Lombardia, che segna la continuale, un passo in avanti, per rafforzare quello che è uno dei nostri grandi punte di eccellenza. Ora, nel futuro di questa struttura, c'è una destinazione ben precisa? Sì, che è quella di diventare un IRCS. Abbiamo già fatto un lungo percorso, grazie anche all'intraprendenza e alla capacità del dottor Alparone, che ha preparato un dossier, diciamo, in maniera preventiva, ancora prima che la Giunta assumesse la decisione. Io ero andato a Roma a verificare l'attenzione e la disponibilità del Ministero e l'avevo riscontrata. Il Covid ha un po' bloccato l'iteramministrativo, che era veramente già avanti. Lo concluderemo a breve. Già faremo una riunione prima di fine luglio presso i miei uffici con tutti gli attori. I primi di settembre approveremo la delibera e poi confidiamo che l'iter burocratico e amministrativo ministeriale sia veloce, celere, che si concluda nell'arco di qualche mese. Grazie dunque per averci seguito e vi diamo appuntamento a una prossima edizione di Lombardia Notizie Online. Grazie e arrivederci.